Altre segnalazioni dei cittadini, mi trovo in via Cesare Battisti, precisamente nel tratto che uscendo da Parco Cimino, girando a destra, lungo la strada vedete che si percorre per arrivare a Taranto, lo vedete qui, tutta la zona è praticamente buia, nel senso che non ci sono pali della pubblica illuminazione, vedete qui è tutto buio, stiamo parlando di un ampio tratto che, ripeto, parte dall'uscita di Cimino all'altezza più o meno, dall'altezza più o meno dello svincolo per la Oshan e poi prosegue questo tratto buio, la strada che porta appunto a Taranto, diciamo, il tratto di via Cesare Battisti percorrendo il quale si arriva a Taranto. Allora, è una strada completamente buia, quindi è anche un pericolo perché vedete qui i marciapiedi sono completamente bui, quindi è una situazione paradossale, una situazione assurda sia da un lato sia dall'altro e quindi quello che urge è un intervento, programmare un intervento per la installazione di alcuni pali che assicurino un minimo di luce, un minimo di luminosità perché sennò davvero sembra la selva oscura di Dante Alighieri. Ripeto, partiamo per capirci dal Cimino uscendo la strada che porta a Taranto, vedete? Tutto buio, vedete qui il marciapiede? Lo vedete? Tutto buio. Vogliamo vedere più oltre? Guardate, guardate più in fondo? Buio. Allora, questo è il tratto che ci interessa. Per cortesia mettiamo dei pali della pubblica illuminazione, anche perché, ripeto, le persone attraversano, le persone camminano lungo il marciapiede e si corrono pesanti rischi. E' l'appello, l'invito che rivolgo all'amministrazione comunale, all'assessore ai lavori pubblici Ciraci. Non è certamente un mio desiderio, visto che non passo quasi mai da queste parti, ma tantissime persone, tantissimi ragazzi soprattutto, che percorrono questa strada vogliono chiaramente vivere in sicurezza e allora, per cortesia, cerchiamo di installare dei pali che assicurino in questo ampio tratto, molto ampio, ripeto, dall'uscita di Cimino, svolta per Rauscian fino a tutta la strada di via Cesare Battisti che porta a Taranto, per favore, per favore, vogliamo, guardate lì per esempio quella persona, lo vedete, al buio, cammina al buio e quindi chiaramente ci sono dei rischi. Spero che, ecco lo vedete lì, la persona che sta camminando, lo vedete, si corrono dei rischi. E allora, cortesemente, per cortesia, illuminiamo la zona. Io, come dire, faccio il nodo al fazzoletto e nella lista delle richieste, nella lista della spesa, tra virgolette, che l'amministrazione comunale dovrà effettuare, chiedo, chiedo alla Massaia Ciraci, facciamo, ecco, come se stessimo facendo la lista della spesa, anziché dire compra la farina, per favore, metti, compra i pali della pubblica illuminazione. Ora, al di là della battuta, per cortesia, risolviamo il problema.